Non siete stati ordinati da Montini ma c'è una ragione specifica, in che anno siamo? Siamo nel 63, noi eravamo in prima teologia, al termine della prima teologia avremmo ricevuto la tonsura per le mani dell'arcivescovo Giovanni Battista Montini. Ma mentre stavamo facendo l'esame di Sacra Scrittura è arrivata la notizia della nomina Papa, quindi da lui non abbiamo ricevuto mandati particolari attraverso tonsura o ordini minori come era una volta eccetera. Non abbiamo ricevuto ordinazioni da lui, però abbiamo vissuto questo passaggio e lo sentiamo nostro perché la sua voce ci interpretava. Ci accompagnava, ci illuminava, ci stimolava, una voce che è inconfondibile perché la sua capacità di lettura della situazione, di interpretazione dei sentimenti, degli atteggiamenti, dei problemi, era unica e quindi ci attraeva continuamente.